Signori cari, Xur, questa settimana è in torre, il solito posto qui all'hangar, in fondo, in fondissimo E, farcia strana, stasettimana, vende Mi devo spostare, scusate L'angolino così non do fastidio a nessuno Ah, il telesto Oh Jesus, basta il telesto Bungie E, treco imprevista, proiettili a fusione che si attaccano ed esplodono a scoppio ritardato con danni da vuoto Quindi si attaccano, simpaticissimo il telesto, raga Stiamo aspettando tutti quanti in questa season che il telesto rompi qualcosa Ma non è ancora successo, ma c'è tempo Diamo tempo al telesto Di rompere il gioco Le multi-uccisioni con quest'arma ricaricano immediatamente le armi cinetiche ed energetiche equipaggiate con le munizioni di riserva Questo piccolo perk esotico in più E non era neanche, oddio, forse un pochino da consigliare la season scorsa con la mod di fusione Adesso sempre peggio, quindi direi di no Allora, le armature sono ancora buggate, signori Quindi sono decisamente basse Però abbiamo il rileva nemici per il cacciatore che contrassegna i nemici a cui si mira E infligge più danni ai nemici con poca vita contrassegnati Questa parte finale del perk Purtroppo non è worth Nel senso che non fa così tanto danno Ai nemici contrassegnati Con poca vita Né in PvP né in PvE Quindi purtroppo a parte il fatto di contrassegnare i nemici Che in crogiolo potrebbe avere Un Leggero interesse Per il resto non è Tutto sto granché Però ci sono i vali cadune Aumentano la velocità di scatto Gli scatti accumulano una carica statica Sferrando un corpo a corpo La carica infligge danni con catenati Ai nemici vicini Il che È buono Il vali cadune è un'ottima esotica da avere Più orientata al PvP che al PvE Anche se in PvE qualcuno di voi la usa Lo so E In linea di massimo è una buona esotica Per il titano Il problema è che le statistiche vanno schifo Quindi vi suggerisco di prenderle Solo ed esclusivamente Se vi mancano Idem Per l'aspetto fidiano Le armi si ricaricano e sono pronte all'uso molto velocemente Aumentano la città del corpo a corpo Se avete problemi di maneggevolezza Se avete problemi di qualsiasi tipo con le armi che state utilizzando Questa è sicuramente l'arma Il pezzo esotico che fa per voi Per il crogiolo Direi Più orientata al crogiolo che al PvE sta roba Così da avere le armi sempre pronte Che ne so Immagino un Felwinter con la maneggevolezza bassa Vi mettete questa Bam Eccolo lì che ve lo tirate fuori Subito Quindi buono Stesso discorso di vali cadune Soltanto che purtroppo Le statistiche So quelle che so Armi leggendari Abbiamo ronda notturna Con sussistenza e carica esplosiva Good Good GM stanno arrivando ragazzi I ricognizioni per i barriera Possono essere interessanti Carica esplosiva lo è altrettanto Quando siamo sottorivellati Quindi Prendetelo Velocità di fuga con Strarrippamento e osmosi Cittata Proiettili Oh ragazzi Molto interessante Per le nostre build Da vuoto 3.0 Usare la granata cambia il tipo di danno di quest'arma Quindi Usando la granata Noi possiamo far diventare Sta mitraglietta al 900 Come la rete incanalante Poi c'è anche Strarrippamento Rifiniti E prodigio incittata Non è affatto Male Ma la compro pure io E ci faccio anche una build Senti che ti arrivo a dire Così abbiamo nello slot Energetico La possibilità di mettere qualcos'altro Si libera lo slot energetico Non male Poi abbiamo il marasso mortale Invece Mitraglietta Solare Con frenesia alimentare E interruzioni valenta Purtroppo il marasso Non ha dei perk Interessanti Però questo è uno De 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 Buon roll Direi che è un buon roll Però Vabbè Insomma Inutile che Inutile che sto a dirvi che Non è il caso Utilizzarla in questa season Però se volete La comprate Va la mettete da parte Eventualmente Poi abbiamo il morso della vedova Con frenesia alimentare E tiro d'apertura Lontano futuro Con estrazione E caricatore Multiuccisione No Serafino Con preparazione Mulligan Ni Terzo assiamo Surplus Arma Vorpal Fucile a impulsi Per quanto riguarda I campioni Inarrestabili Potrebbe essere interessante Da avere con Arma Vorpal Però Non lo so Non è Non è il caso Secondo me Poi abbiamo il primo set Del crogiolo Per quanto riguarda Le armature Anche qui ovviamente Con le statistiche basse Quindi inutile che le sto a guardare tutte Però se volete prendere Il set Questo set Del Del Lanca Di Per il Trasmog Scusate Potete prenderlo E Trasformate Come volete Poi Falco Lunare Con Vento Assassino Questa settimana Mentre Il racconto dell'uomo morto Con mira istantanea Direi che Nessuno dei due Forse più Vento Assassino Sul Falco Lunare Ci potrebbe stare Però Il racconto dell'uomo morto L'abbiamo già visto Insomma Quarta fortuna D'arma Vorpal Su tutti Falco Lunare C'ha tiro d'apertura Mi sembra Telemetro Forse Se non ricordo male Quindi niente Io direi di prendervi Valle Cadune E Aspetto Fidiano Se proprio non li avete E Per tutti gli altri Mettere da parte Ronda notturna E la velocità di fuga Compratela E provatela Proviamola La proverò Così vi faccio Vi faccio vedere un po' Come funziona Il percosmosi E soprattutto se Ne vale la pena Potrebbe valerne Molto la pena Molto la pena Molto la pena